Basile ci tiene a sottolineare di essere persona diversa rispetto a Cateno De Luca, nei confronti del quale il dialogo non alberga. Per cui aspettiamo i fatti, fermo restando che in democrazia chi vince governa e chi perde va all'opposizione. Nel rispetto dei ruoli, noi siamo opposizione responsabile e non distruttiva, per cui aspettiamo i fatti prima di poter rispondere. Ci possono essere dei punti di contatto rispetto ai programmi, rispetto a qualche tema che si può condividere? Noi avevamo posto il tema degli spazi culturali che sono totalmente assente in città, è il tema dello sviluppo economico, del waterfront e soprattutto il tema delle disuguaglianze. Su questi temi siamo sempre disponibili a portarli avanti nell'interesse della città, anche se dal punto di vista politico è difficile immaginare una collaborazione.